Cari amici, oggi è un giorno importante perché finalmente Monsignor Viganò si è accorto che esiste Andrea Cionci e lo ha gratificato di alcune considerazioni sul suo sito exorgedominio.it Sapete che Monsignor Viganò tende a non farsi trovare, oscurala, come sono oscure anche molte altre cose, oscuro anche il suo domicilio, ma se volete farlo venire fuori basta che appendiate a un albero un libro in cui si dica che non ci sono soluzioni per rimuovere Bergoglio. Allora subito esce fuori Monsignor Viganò e subito lo recensisce e lo spinge perché la cosa importante per Monsignor Viganò è che non ci siano soluzioni, che Bergoglio non si possa rimuovere, che gli si possa dire peste e corna, ma che assolutamente debba rimanere lì dov'è. Ecco, se voi volete farvi spingere il libro, un qualsiasi libro da Monsignor Viganò, basta che questa vostra pubblicazione abbia tali caratteristiche, così è stato per il caso del libro di Don di Sorco e per tanti altri interventi che appunto evitano la riconquista della Chiesa Cattolica. E' certo perché se riconquistate la Chiesa Cattolica poi i soldini non vanno più exorgedomi. E' evidente, no? Allora, naturalmente è tutta una sviolinata verso il professor Viglione, il cui libro dice «Eh, mi dispiace, ma non sappiamo che per scipigliare non c'è alcuna soluzione, Bergoglio non si può rimuovere, ce lo dobbiamo sorbettare, è un mistero dei misteri, eccetera». Nell'elenco delle tesi sulla vacanza della sede apostolica non potevano non essere ricordate anche le elucubrazioni fantacanoniche del codice Ratzinger di Andrea Cionci e dei suoi seguaci. Ecco, compare il nome di Andrea Cionci finalmente in uno scritto di Monsignor Viganò. Oggi è un giorno importante. Non sfuggirà al lettore l'inconsistenza della fantomatica teoria della sede impedita che costituisce una falsa premessa che inficia l'intero ragionamento. Non ho capito per quale motivo. Vabbè. «Oltre a gettare, come le rileva l'autore, inquietanti ombre sulla onestà e la correttezza di agire di Benedetto XVI». È certo, è stato macchiavellico, è stato diabolico, papà Benedetto, no? A sacrificarsi come Gesù. Anche Gesù Cristo è stato macchiavellico e diabolico, perché lui che ha fatto? Si è fatto mettere in croce, ma non ha detto che sarebbe risorto dopo tre giorni. Quindi avete capito che genio del mal... Che Dio mi perdoni, guardate. Però questi paradossi per farvi capire l'impostazione teologica di questi scismatici. Ora che Monsignor Viganò sia scismatico lo leggiamo su Wikipedia nella voce dedicata a Monsignor Richard Williamson. Nel mese di gennaio 2024 su alcuni siti è stata data la notizia di una possibile riconsagrazione di Monsignor Viganò per mani di Monsignor Williamson. Nonostante su web vi sia un articolo che smentisca tale riconsagrazione, sulla bussola quotidiana è stata riportata che da diverse fonti hanno confermato l'avvenuta riconsagrazione di Monsignor Viganò. E lo stesso Viganò, interpretato dalla bussola con un'email, non ha smentito la notizia. Quindi abbiamo tutti i motivi per ritenere che Monsignor Viganò si sia fatto a riconsagrare Vescovo e quindi sia scismatico. Ciò detto, continuiamo con quello che scrive. Ritenere che egli abbia potuto lanciare dei messaggi criptici rivolti a una ristretta cerchia di iniziati basando questa convinzione su fatti del tutto opinabili e circostanziali convinzione assurda, prova inopugnabile ed ossessivamente imposta come verità dogmatica relega le speculazioni di Cionci e Company al genere fantasy mutuato da Dan Brown. Ecco qua, il romanziere alla Dan Brown, il romanzo fantareligioso, il codice da Vinci. Bisogna dire che Monsignor Viganò ha tirato fuori proprio delle contestazioni di prima mano. Secondo me l'ha fatta apposta, l'ha fatta apposta perché questa faccenda di Dan Brown sa che mi crea insofferenza, ma io mi diverto con questa cosa del romanziere alla Dan Brown. Mi diverto perché, adesso vi faccio vedere perché. Allora, la fanta teoria della sede è impedita. Vediamo un po'. Vediamo questa slide. Chissà se sua eccellenza, non so se devo chiamarla ancora eccellenza perché essendosi fatto riconsacrare da Monsignor Williamson e non avendo smentito questo fatto non so che tipo di titolo spetti a vescovi appartenenti a una chiesa non cattolica ma proviamo un attimo a vedere l'aspetto fantacanonico che Cionci con le sue manie fantareligiose ha tirato fuori. Allora la Declaratio di Papa Benedetto dice Declaro me Ministerio Episcopi Rome rinunziare. C'è però il canone 332 che dice Si contingat ut romanus pontifex muneri su renunziat, eccetera. Allora, munus e ministerium, di che cosa si tratta? Ce lo spiega il professor Viglione. Ascoltiamo. Questo lo dicono tutti quelli che hanno studiato il problema. Lui ha rinunciato al ministerium ma ha proprio scritto testualmente di non rinunciare al munus e lo ha ribadito più volte ma questa divisione del papato fra munus e ministerium diciamo per chi ci ascolta che vuol dire munus sarebbe io sono il papa ministerium io faccio il papa. Ecco, essere papa, fare il papa. Quindi sono due cose diverse. Ora, la Universi Dominici Gregis non so se Monsignor Viganò la conosce è una costituzione apostolica che è stata scritta da Giovanni Paolo II e da Cardinale Ratzinger promulgata poi da Papa Wojtyla. Si dice che la vacanza della sede deve avvenire per rinuncia del suo pontefice a norma del canone 332 paragrafo 2 che dice si continga a tus romanus pontifex muneri su renunziat però la declaratio dice declaro me ministerio episcopi rome commesso a rinunziare e poi dice la Universi Dominici Gregis se non sono state osservate le condizioni qui stabilite cioè la rinuncia del pontefice a norma del canone 332.2 l'elezione perciò stesso nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e quindi essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Ecco queste sono le proiezioni fantacanoniche di Andrea Cionci del codice da Vinci e di Dan Brown che si sono messi tutti insieme a tavolino per stilare questo romanzetto. Anche la storia dei codici messaggi criptici che può interpretare solo Andrea Cionci vediamo qui come Benedetto XVI ancora nel 2022 continua a impartire la sua benedizione apostolica ops! E com'è questa cosa? La benedizione apostolica ma la benedizione apostolica la può impartire solo il Papa in carica. Vediamo anche come scrive qui in ultime conversazioni sono il primo Papa a essersi dimesso dopo mille anni ora naturalmente la cultura di Monsignor Viganò è di tipo teologico, umanistico però credo che 2013-1415 cioè la data dell'ultimo abdicatario sia un'operazione senz'altro alla sua portata. Ecco, com'è possibile dire sono il primo Papa a dimettersi dopo mille anni se l'ultimo abdicatario è di 598 anni prima queste sono le fantacanoniche proiezioni del codice da Vinci di Dan Brown Cionci allora devo dire che mi fa un po' tristezza vedere Monsignor Viganò proprio ridotto a fare il verso all'ultimo giornalistucolo una cum con queste affermazioni veramente fanno tristezza fanno tristezza perché questo prelato era partito bene aveva detto delle cose interessanti aveva fatto un buon lavoro al governatorato aveva denunciato degli scandali importanti ma poi purtroppo l'ostinazione e la superbia sono dei brutti vizi e ti portano fuori strada e quindi finisce a darmi del romanziero alla Dan Brown la triste parabola di Monsignor Viganò cari amici noi non ci occupiamo di queste bagatelle noi badiamo al sodo noi ci rivolgiamo direttamente alla gendarmeria pontificia alle guardie svizzere al segretario di stato affinché mettano in moto la magistratura vaticana non stiamo a chiacchierare non stiamo a raccogliere soldini per fare conventi per le monache che poi non si fanno però i soldini ci riteniamo lo stesso noi ci occupiamo di cose serie vi aspetto il 17 a Civitanova Marche il 18 a Udine poi a Roma il 24 e il 25 a Torino il 2 marzo il 3 a Pordenone attenzione a Brescia Castelmella il 5 marzo una nuova data poi a Milano l'8 a Lodi il 9 a Milano per un secondo livello il 10 a Mazzarino insieme a Diego Fusaro il 6 aprile grazie un caro saluto a tutti dal vostro fantastico fantomatico fantacanonico romanziera l'Adenbrau Grazie e Grazie a tutti